Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri leggendosi cresce, tanti auguri a me, a lei, auguri! Salve a tutti i 10 elettori e benvenuti al quarto anniversario di leggendosi cresce. Ebbene sì, oggi, il 14 gennaio 2018, festeggiamo i 4 anni dall'apertura del canale leggendosi cresce e, per essere più precisi, i 2 anni effettivi di lavoro settimanale, quindi ogni video alla settimana sul canale. Questo perché i primi 2 anni sono rimasto inattivo per alcuni problemi, anche per insufficienza culturale, eccetera, e alla fine, nel 2016, e sono ritornato online. Ma, a parte questo, il nostro percorso, anche se un po' a rilento, è andato sempre più a progredirsi. Infatti siamo partiti con circa 30 iscritti e oggi, a distanza di 2 anni, ne abbiamo, perché io parlo al plurale, ne abbiamo quasi 250. Per me è un traguardo davvero molto importante perché non avevo mai pensato di raggiungere un traguardo del genere, soprattutto con il tema dei libri, anche perché nessuno legge in Italia, o quasi nessuno. Quindi, dicevo, un traguardo molto importante perché sono riuscito a rendermi interessante a molte persone, almeno per me. E, oltre a ciò, sono cresciuto sia fisicamente, infatti ho quasi 20 anni adesso, sia intellettualmente e sia culturalmente. Infatti, stiamo scoprendo tanti volumi molto interessanti, sto comprando tanti volumi molto belli che non so quando leggerò, magari in 95 anni, la mia frase ricorrente in ogni book haul. E, inoltre, volevo ringraziarvi perché questo percorso l'ho cominciato io, ma lo stiamo percorrendo insieme. Come ho detto prima, uno ogni tanto ci aggiunge, ogni tanto uno cede e quindi si toglie, ma la costante è più o meno quella. Circa 200-250 iscritti che mi aiutano in questo lungo viaggio, che non intendo fermare proprio ora. Anzi, voglio continuare il più possibile, finché posso. In più, da poco ho aperto un Patreon e ho già anche fatto un video sul canale e in questo Patreon già alcune persone mi stanno aiutando molto, donando quello che possono, da un minimo di un euro a un massimo di 10 euro e anche di più, se volete, ma non vi costringo. E tra queste persone c'è un mio amico scrittore che abita, tra l'altro, non tanto lontano da casa mia e un'altra scrittrice di cui ho recensito due romanzi. Loro sono Luca Bizzarri e Bruna Giovannini. A loro va un mio grande ringraziamento per quello che hanno fatto, cioè che mi stanno aiutando. E un altro ringraziamento va a mia zia, che mia zia è Gilda, che abita in Germania e che con un euro al mese mi aiuta per quello che può. Infatti anche lei ringrazia moltissimo. E in più, voglio ringraziare mia madre, che mi segue ogni volta che hai un video e spero che non smetta mai di seguirmi. E niente, questo era un piccolo video di anniversario, spero di non annoiarvi e voglio un attimo dirvi cosa voglio fare in quest'anno. I miei obiettivi di quest'anno è più o meno un riepilogo dell'anno scorso. Allora, in quest'anno mi piacerebbe che arrivassimo a almeno 300 iscritti o anche 400. 500 davvero dura, ma tutto è possibile. In più, in quest'anno vorrei leggere più libri scritti da esordienti o comunque da persone che mi mandano i loro volumi per leggerli, perché ho già ricevuto dei libri che dovevo leggere, ma ho la lista molto lunga, ora sto facendo anche l'Università Verona e quindi sono un po' impegnato. Ma cerco di fare il possibile per tutti voi, per aiutare a crescere sia voi, sia in cambio e magari voi fate crescere a me. Così da scambiarci aiuto e provvedire insieme. Anche per questo dico che è un percorso che facciamo insieme. Un altro obiettivo sarebbe raggiungere un obiettivo, scusate la ripetizione, raggiungere un goal, facciamo in inglese, sul Patreon. Ho messo 50€ come primo traguardo, 50€ al mese, che potrebbero aiutarmi molto a migliorare la qualità del canale, a migliorare la qualità anche per quanto riguarda l'editing, la qualità del video, insomma un bel po' di cose, e se riuscissi a mettere da parte quei soldi che verrebbero donati da voi, potrei creare qualcosa di nuovo, qualcosa di meglio, fare anche dei vlog, andare a delle fiere librose, tipo al Salone del Libro di Torino, al Mantua Comics, Luca Comics, queste cose qua. E niente, questo qui è quello che vorrei fare quest'anno, sembra poco, ma vi assicuro che ci vorranno un po' di impegno, sia da parte mia sia da parte vostra, sempre se voi volete. E come ripiego dell'anno scorso, direi che è stato un bell'anno, tra alti e bassi, tra delusioni e successi, tra l'altro è successo il diploma con cui ho finito il liceo, quindi bene così, e tra letture belle, letture brutte, sufficienti, è stato un anno, direi da 8 su 10, ecco, facciamo un esempio di recensione. E quindi con questo chiudo questo video anniversario e con un'ultima frase. Spero che il video della settimana prossima vi possa piacere perché anche esso sarà una recensione, ma comunque spero di non annoiarvi e spero che il video successivo a questo vi piacerà quanto i video precedenti a questo, i video dell'anno scorso, eccetera eccetera. Quindi grazie per la visione di questo video anniversario e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a te da Giuseppe, da JerseyCresce e ancora auguri a me!